In ambito formazione qual è la principale criticità che ritroviamo? Il problema appunto è formare persone che siano in grado di gestire la complessità del mondo della sicurezza e tale complessità è data dal fatto che l'esperto di sicurezza in primo luogo deve conoscere bene il dominio in cui opera ovvero noi pensiamo ingenuamente che basti avere un'etichetta esperto in cyber security per essere in grado di controllare attacchi eccetera ma la cosa fondamentale è conoscere il dominio dove tu devi appunto andare a chiudere le finestre, le porte eccetera quindi primo luogo devi essere esperto di uno specifico sistema e poi puoi aggiungere la sicurezza il secondo problema è che la sicurezza è complicata il CYBOC che sarebbe il cyber security body of knowledge degli UK dell'Inghilterra ha definito addirittura 21 aree di competenza e questo vuol dire che in un corso di formazione per un ragazzo o per anche un master per dire un post laurea che vogliamo formare in sicurezza dobbiamo dare nozioni che sono estremamente variegate e devono andare a coprire svariati aspetti e questo rende difficile appunto la creazione di questi esperti di cui abbiamo necessità enorme perché appunto tutti hanno problemi di sicurezza e quindi questi devono essere oggettivamente tanti più di quanti riusciamo a formarne Una sua opinione su 5G&Co? 5G&Co oramai io lo frequento da anni da quando è stato fondato e io l'ho trovato sempre importantissimo soprattutto perché coniuga il mondo tecnico con il mondo ovviamente accademico come il mio ma con il mondo anche politico e io penso che sia necessario andare verso questi sistemi diciamo queste conferenze che cercano di unire appunto evitare la segregazione di questi domini perché noi ci parliamo troppo poco fra di noi tecnici parliamo molto ma magari parliamo molto meno appunto con i policy maker e magari loro parlano fra di loro e non con noi e quindi questa è stata un'ottima occasione anche per sentire per dialogare con persone diverse da te costruzzi Grazie.